Non accettiamo prediche da coloro che negli ultimi tempi hanno causato all'ente tanti danni, così da essere costretti noi ora a lavorare per ripararli. Così la secca repica del presidente della provincia di Taramo, Walter Catarra, agli attacchi delle opposizioni sul tema del bilancio. Il consuntivo 2009 approderà domani in consiglio per l'approvazione. Bilancio che, ribadisce l'assessore al ramo di Giacinto, per metà porta l'impronta della vecchia amministrazione, rimasta in carica fino allo scorso giugno. Facciamo già una conferenza stampa nell'agosto scorso in cui descrivemmo la situazione dell'ente. Oggi noi prendiamo atto col bilancio 2009 e prendiamo atto anche di quelle dichiarazioni che avevamo fatto a luglio, all'agosto, che ci fu detto che eravamo un po' dei visionari di Mago Merlino. Attestiamo l'indepitamento? Attestiamo il fatto che, come avevamo detto, avremmo avuto a fine anno un milione di euro in meno di entrate sulle RC auto, sull'IPT e tanto stato. Attestiamo il fatto che le spese, gestione calore, trasporto risabili, formazione non sono state inserite in bilancio come tante altre. E i riconoscimenti debiti abbiamo dovuto fare durante l'anno. Noi nel bilancio 2010, quello che presenteremo poi a fine mese, a fine maggio, approveremo in consiglio il 25 maggio, queste somme invece le abbiamo messe. È un bilancio vero. Ci faremo sentire ancora, ha affermato stamani Catarra. Questa giunta è tutt'altro che immobile, lavoriamo 24 ore su 24, stiamo ottenendo i primi risultati, ma il centro-sinistra ci ha lasciato una situazione disastrosa. Quindi anche una battuta sulla mancata approvazione del bilancio preventivo 2010. Molte amministrazioni di sinistra si freggiano di licenziarlo a dicembre, ma è inutile affrettare i tempi per chiudere bilanci fasulli, senza un reale quadro di entrate ed uscite. Noi approveremo un bilancio vero.